Sono il nuovo presidente di BIMI Building Smart, oggi siamo qui all'auditorium della tecnica all'Eur a Roma e stiamo ospitando l'International Building Smart Summit, un evento internazionale che ha riscosso grande interesse, infatti oggi siamo qui in più di 500 persone, oltre 300 collegati online. Nella prossima sessione presenterò quello che è il piano strategico e operativo di questo nuovo Consiglio nazionale che io rappresento e che per i prossimi quattro anni guiderà l'associazione. Lavoreremo su più temi, il tema sul quale in realtà già stiamo lavorando in questo momento è consolidare e rafforzare quelli che sono i legami a livello internazionale, poi lavoreremo anche sul consolidare quella che è l'organizzazione associativa, andando a creare un organo tecnico e scientifico che possa supportare la strategia e le decisioni quindi del Consiglio nazionale. Andremo poi a sviluppare una serie di linee guida o comunque contributi che possono aiutare la pubblica amministrazione in questo momento di transizione verso il digitale che il nuovo codice degli appalti comunque richiede. Lavoreremo poi sull'esplorare nuove possibilità di applicazione delle tecnologie e delle innovazioni nel campo digitale, infatti dopo il BIM i dati possono essere utilizzati per numerose applicazioni. L'intelligenza artificiale, la robotica sono tutte applicazioni che intendiamo studiare, capire e cercare di trasmettere poi quello che impariamo. Questi temi avranno un referente, un delegato del Consiglio nazionale e verranno quindi portati avanti con una visione strategica d'insieme e supportati chiaramente dai soci. Da questo punto di vista noi oggi contiamo già oltre 200 soci, ma l'intenzione è di aumentare il numero per raggiungere una base associativa molto più ampia. In particolare vorremmo riuscire a coprire un po' tutti quelli che sono gli ambiti del settore, in particolare i produttori che oggi ancora non sono molto coinvolti nella digitalizzazione, intendiamo averli al nostro fianco nel portare avanti queste strategie. Ma in realtà tutto il settore deve essere seduto al tavolo e insieme affrontare questi problemi. Quindi mi auguro di potervi avere insieme a noi e portare avanti quello che è il tema del digitale nel settore delle costruzioni per l'Italia. Per il programma standard che portiamo avanti abbiamo appena pubblicato una nuova linea guida dedicata alla blockchain e come questa si può applicare a un common data environment per registrare quello che è lo scambio informativo tra più parti. È invece a breve che finiranno i lavori del gruppo dedicato alle strutture nel quale si è studiato quello che è lo scambio informativo tra la parte geometrica e quella analitica del dominio strutture e in queste linee guida verranno definite e spiegate quelle che sono state poi le scelte finali di un gruppo di lavoro dove hanno partecipato professionisti, software house e mondo accademico. È invece proprio in questi giorni che stiamo per lanciare un nuovo gruppo di lavoro dedicato agli aeroporti. Domani qui al Summit avremo una sessione dedicata che verrà aperta da Enac dove parteciperanno altri gestori nazionali. Si instillerà un po' la lista dei desideri e quindi parteranno poi le attività da aprile. Anche in questo caso ci aspettiamo di pubblicare linee guida o comunque indicazioni utili poi ai gestori in particolare. Io sto partecipando al gruppo di lavoro sulle competenze a livello europeo, quindi con il CEN, incaricato da SBS che è un'associazione europea sugli standard per i piccoli business, quindi rappresento le piccole e medie imprese. In questo momento il tavolo si sta confrontando anche per definire con maggiore dettaglio quello che deve essere lo scopo e l'idea generale è quella di andare a fornire una cornice, un riferimento per definire poi quelle che sono le competenze dei professionisti BIM.